La fascia di Galliani, quella di Brahe, da qui rivediamo, qui l'errore è clamoroso, è clamoroso. E' ben affiato, ben affiato, e ha regalato un pallone invitante. Magna anche Nexese, oltre l'Abiate? Ma Nexese è difficile lì, secondo me, andare a fermare in corsa un giocatore che è alto 1,96. Ha cercato di allargare un po' il braccio, ma se Abbiate fosse rimasto in porta, la forza del colpo di testa di Raneghi non era tale da metterlo in difficoltà.